Un importante riconoscimento nazionale è stato conferito alla Banca Sicana, l'istituto di credito cooperativo con sede a Caltanissetta, 15 filiali e una competenza territoriale in 51 comuni di tutta la Sicilia. Nell'ambito di Milano Finanza Banging Hours 2022, promosso ed organizzato dal quotidiano MF Milano Finanza, alla Banca Sicana è stato infatti consegnato il premio Best Banks Italia nella sezione Eccellenze Regionali Sicilia, un risultato che attesta il peso e la valenza anche su scala nazionale che ha assunto negli anni l'azienda preseduta da Giuseppe Di Forti e diretta da Michele Augello. La cerimonia di consegna dei riconoscimenti è avvenuta a Milano. Si tratta di un premio, ha dichiarato il presidente Giuseppe Di Forti, che certifica i risultati della nostra banca. I valori e gli indici di bilancio CET Texas Ratio e NPL Ratio Netto dell'1,1% delineano un quadro di solidità assoluta e acquisiscono un peso specifico ancora maggiore perché apprezzati e riconosciuti da esperti e specialisti del settore. Risultati raggiunti anche grazie al supporto di Cassa Centrale Banca, la nostra capogruppo, ai primi posti in Italia per solidità, dice ancora Di Forti. Il credito cooperativo è un modello di banca di successo e Banca Sicana, frutto di sette aggregazioni, vanta una lunga storia ed unisce tradizione e dinamicità. Per il presidente di Banca Sicania, ricevere questo riconoscimento rappresenta energia per proseguire con rinnovato slancio e con la passione di sempre. Viene premiato l'impegno dei nostri dipendenti, veri artefici di questo successo, dice ancora Di Forti, ma anche valorizza l'intera comunità di appartenenza e ciò dimostra che si può essere eccellenze anche in Sicilia. Il riconoscimento, ha dichiarato il direttore generale Michele Augello, ci coglie al termine di un percorso di crescita e di consolidamento molto impegnativo e pertanto ci giunge particolarmente gradito. Vengono così premiate le competenze e le professionalità interne della banca che hanno profuso grande impegno ed hanno creduto nel progetto di rilancio aziendale.